Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, carissimo Beppe. Oggi continua il tempo bello per fortuna, siamo in un bellissimo posto. Sai che è tenuto bene qui questa camminata, siamo in zona meridiana, vincone. Sì perché è sotto, non la vedi. Sottostrada, bello, ben mantenuto, pulito. Non pensavo che ci fosse. Camminata maltese? Come si chiama? Camminata maltese. Perché abita qui dintorni. Medaglio d'oro nel 1943, quindi è morto in Africa sicuramente. Va bene, seconda guerra mondiale, perché tu di storia lo sai. Niente, zero. Siamo qua però, carissimo, perché tu da grande appassionato di stregoneria... Non penso proprio, guarda. Non penso proprio. Stregoneria assolutamente no. Dai, quando facevi il vice sindaco facevi le tue macumbe. Assolutamente no. Neanche le donne, quelle streghe, mi piacciono. No, 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 no. Va bene, ascolta, qui un telespettatore ci ha chiamato, abbiamo già fatto vedere nel telegiornale il video che è stato girato da questo telespettatore, perché qui sotto, guarda, c'è ancora, vedi quella, è una mela con dei chiodi di garofano conficcati all'interno, ma nei giorni scorsi, oltre a questa mela, c'era anche una bottiglia di un profumo afrodisiaco brasiliano, c'erano delle candele, c'erano dei lumini, e insomma, tutto questo corredo ha un po' insospettito questo telespettatore che ha fatto una sua ricerca, adesso tra poco lo sentiremo solo in voce, che ci spiegherà, insomma, che anzi, Io chiedo subito, che c'è? La gente non viene a trovare la sera. Allora, che cosa avete trovato? Allora, durante una normale passeggiata ci siamo imbattuti in questa che a prima vista sembrava della banale sporcizia, ma poi ad un attento approfondimento si è rivelato un vero e proprio, i resti di un vero e proprio rituale, rituale magico. Ecco, hai fatto una ricerca, anche un nome, no? E a che cosa serve? Sì, abbiamo fatto una ricerca su internet e è venuto fuori che si dovrebbe trattare di una magia, di una religione che si chiama Condomblé, è una religione afro-brasiliana, nata in Africa dagli schiavi che poi sono stati deportati in Brasile dove hanno fondato appunto questo movimento. E' una religione che venera questi Orixa, che sono dei semi-dei, a cui viene chiesto attraverso dei rituali alcuni favori, diciamo. Cioè, in particolare questo rituale è dedicato a questa dea Pombagira, che è una donna a cui si chiede dei legamenti d'amore, delle separazioni, insomma si tratta di magia rossa. Magia rossa è anche nera, secondo te? Sì, poi c'è anche un'altra divinità che appunto è questo Exu che parebbe sia a tutte le fattezze del diavolo. Quindi quando viene fatto questo rituale di questo Exu si parla appunto di magia nera. Voi avete provato un po' di inquietudine tu quando ti sei vista questa cosa davanti. Sì, parecchio. Avevo visto anche altri servizi appunto dove in Largo 2 Giugno, dove sono stati trovati degli altri rituali e insomma ci siamo parecchio preoccupati. Ci potrebbe essere dietro delle... Ma o semplici... semplici stregoneria o qualcuno che vuole appunto... Sicuramente gente non di Arezzo diciamo. Straniera, straniera. E d'altronde con le multietnicità... C'è anche la multimagia. Esatto, succedono anche queste cose. Si portano anche dei rituali che vengono fatti, tribali che vengono fatti anche nelle nazioni in cui si risiedono questa gente. Tu ci credi nella magia? Assolutamente no. Quindi è superstizione? Sicuramente sì, è tutta superstizione. La magia non esiste. La magia esiste quella... Hai visto i maghi come fanno in televisione? Questi attori. Ti smezionano la gente. Del resto... La magia, la magia nera, non ci credo assolutamente niente. Ognuno quando nasce ha un suo destino e va avanti con il suo destino, non c'entra a fare. Una cosa è che ci auguriamo che sia il gesto, diciamo, magari di qualche... Visto ci sono a volte queste... Ma sa anche il nome mi interussisce perché lo dicevo prima lui, in primo piano, ha detto che si chiama Condom Ble. Lui tu hai pensato che è il condom? Ha pensato il condom, quindi io... Non lo so. Condom, il ble, assomiglia a un altro colore, un'altra pasticca, può darsi che siano abbinate a queste cose. Psicomagia. Psicomagia, va bene. Pensavo ti riferissi a qualcosa altro. No, no, mi riferisco a qualcos'altro. Mi riferisco a quello che pensavi te. Spero che non ci siano dietro sette cose di questo tipo, che sia solo una streghetta di... Una cosa, insomma, così, marginale. No, mi è piaciuto il termine streghetta. Streghetta. Mi è venuto a mettere il Manzoni, l'untore. Le canti, le canti. No, no, non ti canto. L'untore del Manzoni mi sembrava, dicessi te. Ecco, mi sono riferito a quello. È tutto casuale, ovviamente. Va bene, spiegherò già. Che dobbiamo dire? L'ultimo passa il tempo come vuole. Bravo, esatto. L'importante è che non faccio male a nessuno. Che facciano soltanto... Questa coppia adesso si lascia, che gli hanno fatto questo rito. Ah, questo sarebbe un problema. Non penso... Possono stare tranquilli. Sarebbe conoscati comunque. Per altri motivi, sicuramente. Non ti preoccupare. Non sono sicuramente per i riti. Bene, ringraziamo il telespettatore, ovviamente, che ci ha segnalato. Grazie a voi. E alla prossima. Ciao.